A camminare è una cosa che mi è sempre piaciuta moltissimo. Camminare in qualsiasi modo. Mi piace sentirmi allo stremo delle forze quando il corpo arriva al limite delle sue possibilità. Allora si comincia a ribaltarsi in un altro ritmo. Non è più il corpo a compiere uno sforzo ma viene portato avanti da qualcos'altro. Camminare e alla fine sorge un grande ritmo. Oltrepassato lo stadio della fatica, oltrepassato un certo stadio, comincia un grande ritmo. E così sulle strade dell'India, beh no, non posso dire che ci fosse qualcosa di più che da altre parti, perché era sempre un camminare. Ma solo che le persone, sì, mi sentivo in un paese in cui si può respirare meglio. Davvero, è una grazia particolare di questo paese, dell'India. Oppure lo era, non so. Infatti, non so se adesso si possa dire ancora altrettanto. Davvero una grazia particolare. C'è davvero un'aria che non si trova in nessun altro paese. Ma dopo aver attraversato tutta l'India e aver conosciuto, o quantomeno toccato un poco quello che era il suo ideale di vita, mi sono ritrovato al fondo della domanda umana. Al fondo o al termine dell'umano. E non avevo risposte. Ovvero, la risposta che mi veniva offerta era quella di andarmene, di buttare lo straccio del corpo nel fuoco. No, non conoscevo la risposta. È questa, in realtà, la causa della decrepitezza e del degradamento dell'India. Invece di servirsi della sua spiritualità per incarnarla, l'India se ne è servita per sognare, per meditare, per lasciarsi andare in una specie di sonnolenza spirituale, chiamata Nirvana. Però non fanno che dormicchiare. Dormicchiano gradevolmente, vastamente. Ma che cosa sono? Che cosa fanno per la terra? Ecco il punto contro cui andavo immancabilmente a urtare. E a quel punto mi ci ritrovavo continuamente. Ci sbattevo contro sempre. Qual è lo scopo? Qual è lo scopo di questo corpo umano? Che cos'era il corpo di quel bambino in riva al mare che guardava l'immensità? E aveva l'impressione che ci fosse qualcosa da vivere? E tutto va a finire come? Già, chiudere gli occhi e poi... e poi che cosa? È così che va a finire? Ma quel ragazzino che guardava la piccola onda sulla spiaggia non avrebbe potuto accettare una cosa del genere. No, non poteva essere quella la vita. La vita divina non era quella. Eppure ai lontanissimi inizi della storia dell'India c'era stato qualcuno che aveva capito. I Rishi, vissuti forse 5.000 anni fa o 6.000 o 7.000 anni fa, loro avevano capito qualcosa del segreto. Lo stesso segreto riscoperto da Sri Aurobindo e da Mer. Ecco che cosa mi attirava in fondo. Al termine del mio periplo indiano, ritornavo a quella sorgente, alla sorgente vera dell'India, al vero perché di questa vita. Se le cose si compissero nell'aldilà, perché mai accidenti bisognerebbe entrare in questo corpo. Quel sagnasi in nudo mi aveva detto, beh, e poi è finita. Butti lo straccio nel fuoco e poi... e poi niente. Libero. Ma qual è il senso evolutivo di tutta questa storia? La storia è andata avanti dai molluschi, alle rane, ai pesci e alle scimmie solo per... abbiamo faticato davvero per milioni di anni e sofferto. E tutto questo perché? Per finire in piccole meditazioni spirituali? Non è accettabile, non ha senso. Tutta questa maledetta storia, questa dolorosa storia, questa storia straordinaria, non può avere come scopo una... una così povera cosa. Se un primo embrione d'essere ha cominciato a formarsi sulla Terra, vuol dire che deve avere un senso sulla Terra. E la verità è qualcosa che deve avere un senso in questo nostro corpo. Un'evoluzione non avviene nelle circonvoluzioni cerebrali. L'evoluzione è avvenuta attraverso un paio di pinze. Bene, adesso avviene per il momento in un certo numero di circonvoluzioni cerebrali eccessivamente gonfiate. Ma non è la pienezza di tutti questi milioni di anni. Non sta certo dentro a un cervello. Non è possibile. Deve trattarsi di qualcosa che sta dentro la pelle. Di qualcosa che sta nel corpo. È stato proprio in quel punto che Mer mi ha pizzicato, mi ha preso. C'è negli uomini un modo illusorio di vivere. Questo è evidente. Un'illusione provvisoria è utile. Certamente c'è da attraversare un'apparenza. Nessun dubbio. Uscire, appunto, da queste serie di piccoli oggetti che mettiamo in scatola. Ecco, bisogna uscire da tale in scatolamento. Non c'è ombra di dubbio. È quella, infatti, l'illusione, la menzogna. Allora vuol dire penetrare in un tratto in una dimensione davvero più vasta. Ma questo è solo il primo passo. Non è il fine. È l'ABC. Bene. Una volta attraversata tale scorza, la piccola scatola in cui abbiamo rinchiuso tutte le cose e tutti gli esseri, una volta perforato questo pezzo di cartone. Infatti non si tratta di nient'altro che di cartone. Che cosa ne facciamo del nostro corpo? Che ne è dopo? Ecco la risposta che nessuno yogi conosce. Che non conosce nessun illusionista e nessun buddista. C'è un abisso, certamente, tra coloro che vengono chiamati profeti o illuminati, chiamiamoli come vogliamo, e quello che hanno costruito i loro discendenti, i loro discepoli e le loro chiese. Che ne sappiamo, ad esempio, delle vere parole del Cristo? Che ne sappiamo noi delle vere parole del Buddha? Non ne sappiamo niente per dire la verità. Per cui, quando parlo di buddismo, non è il Buddha che metto in questione, ma tutta la religione che ci è stata costruita attorno. è ben difficile parlarne di buddismo, perché è diventato sinonimo di un certo modo di essere e di vivere, per cui se ne può parlare solo in quanto buddismo e non in quanto Buddha. Del resto, il buddismo è stato molto utile. È stato utilissimo nell'evoluzione delle coscienze umane, aiutandole o spingendole a infrangere certe apparenze. Ma è solo il primo passo. Qual è allora il passo successivo? Ecco il punto, ecco la mia domanda. Ecco il punto a cui ero arrivato al termine della mia corsa. Ma non ci ero arrivato per via filosofica. Ci ero arrivato nel modo più concreto possibile, poiché io ero rimasto sempre lo stesso ragazzino, proprio così, che guardava e guardava l'immensità del mare e si diceva «Ma dov'è il mio segreto? Dov'è il segreto del mio essere? Di questo corpo in cui mi trovo?» Avevo letto diverse cose di Sri Aurobindo. Non so, per me era come leggerlo in filigrana. Sono andato in giro con la vita divina sotto braccio. Ma andavo in giro col mondo di Sri Aurobindo, con la sua atmosfera, con quello che egli rappresentava. Quando ne leggevo una pagina o due, non è che leggessi delle parole. Dietro sentivo una specie di sguardo o una profondità e mi piaceva stare in compagnia di quella cosa. Insomma, non era certo la filosofia di Sri Aurobindo, che pure conoscevo un poco, ad attirarmi. No, non era quella. Avevo finito di fare il giro dell'intelletto a 19 anni. Avevo letto centinaia e centinaia di libri e una volta per tutte avevo capito che non c'erano risposte nei libri. E così mi muovevo sotto gli occhi di una popolazione indiana, benevola. Benevola nei miei confronti, sì. Gli indiani sono più che benevoli. Sono profondamente gentili, di una gentilezza vera, una gentilezza che non è solo un sorriso sulle labbra, ma un sorriso nel cuore. È questa davvero la grazia dell'India. C'era quella grande gentilezza, sì. Ma alla fine, beh, non avrei certo potuto passare la mia vita in abito monacale. Avevo bisogno di dare un altro senso a tutte queste cose. Avevo bisogno di entrare in contatto con qualcosa di più autentico di tutte queste cose. Ho attraversato il Bengala e poi, insomma, ho attraversato tutta l'India. Sono risalito per Benares, Brindavan, fino all'Himalaya. Non ho visto molto l'Ovest dell'India, ma soprattutto l'Est e il Nord-Est. Nel mio camminare per le strade dell'India c'è stata una cosa che mi ha colpito. Durante le mie peregrinazioni sono andato verso le sorgenti del Gange. Non esattamente le sorgenti, ma insomma nella parte alta del Gange, risalendo il fiume. Come sempre nella mia vita adoravo i ciottoli. Mi piacciono tutte le pietre. I ciottoli, i sassi hanno una vita per me. Così avevo raccolto un ciottolo del Gange che trovavo bellissimo e l'avevo conservato. Sulla strada del ritorno un giorno mi hanno dato asilo vicino a una stazione ferroviaria. Un brav'uomo che faceva non so che nelle ferrovie, forse il bigliettaio, oppure insomma un piccolo impiegato delle ferrovie. abitava proprio vicino ai binari della stazione. Con lui c'erano sua moglie, due o tre bambini e la vecchia madre. Mi hanno alloggiato nella loro casa. A un certo momento, non so perché, ho tirato fuori il mio sasso e l'ho appoggiato da qualche parte. La vecchia madre si è messa a guardare quel ciotolo. L'ha guardato e rimirato con attenzione non so proprio perché. Spontaneamente ho preso il sasso e glielo ho dato dicendole «l'ho trovato nel Gange». E allora quella vecchia ha messo giù il sasso e ci ha posato la fronte sopra. Era talmente toccante vedere con quale amore quella donna posava la fronte su un ciotolo del Gange. Non so, è una cosa che mi ha molto commosso. Sì, quella capacità di adorazione, in effetti, quella facilità o spontaneità con cui sono capaci di adorare. Vale a dire, sì, immergersi in qualcosa di più vasto del tal piccolo uomo o del tal piccolo oggetto. o del tal, una cosa che mi ha commosso. Sì, perché avevo riconosciuto in quel gesto così semplice qualcosa. È stato un tempo molto breve ma molto condensato perché davvero sono stato condotto immediatamente alla mia domanda. Posso dire che nella vita non mi è stato mai concesso di perdere tempo. Una volta esaurita una tappa, sono sempre stato posto in modo piuttosto brutale davanti alla risposta che avevo bisogno di ascoltare. Ho incontrato guru e sannyasin. Sì, ne ho incontrati tanti. I guru le trovo spaventosi. Non posso dirle diversamente. E anche, evidentemente, è un modo di dire. Perché in realtà tutto è il guru. Ogni istante, ogni cosa, ogni incontro, ogni incidente, ogni avvenimento. È il guru. tutto viene a mostrarci la strada. Solo che non ce ne accorgiamo. Prendiamo le cose come al solito, come abbiamo sempre avuto l'abitudine di prenderle. Ma a saper guardare, ogni cosa è il guru. Cioè, ogni cosa rappresenta colui che ci insegna, che ci indica il cammino. Ogni incontro, ogni persona, ogni cosa che succede, ogni incidente. Ecco cos'è il guru. Perché mettere allora tutto, dentro una pelle paludata di una veste bianca e accovacciata. Non posso sopportarli. Proprio non posso, tutti quei tizi. Ne ho fatto presto il giro. Volevo certo ammettere che un certo numero di loro siano sinceri, beninteso. Ma a quello che ne fanno i discepoli è questa la cosa odiosa. Perché, vede, ne fanno delle divinità. E così tutto diventa comodissimo. Il guru. Basta, sarà il guru a fare. Il che dispensa assolutamente dal compiere lo sforzo necessario. Il tragitto necessario. Tanto c'è il guru. Lo farà lui. Il guru e poi il guru e poi ancora il guru, sempre la stessa cosa. Il guru che ti dispensa di essere, di diventare quello che sei. Merlo esprimeva molto bene. È la pigrizia, diceva, la pigrizia a farvi adorare qualcuno. Non è adorare che occorre, ma diventare. Solo che ci vuole coraggio per diventare. Non si tratta certo di addormentarsi. No. No davvero. Ecco qual era la spada di Mer. Accanto a lei non ci si poteva addormentare. Non si può addormentarsi. Non si può rimettersi a qualcos'altro. Ecco perché sono tornato. Al termine del mio periplo, sono tornato in quell'ashram. Questa volta capivo di dover superare tutte le mie fobie, dei muri, degli inquadramenti, dei condizionamenti. Per lei. Certo. Quanto all'ashram me ne infischiavo altamente. Ma c'era lei. Era lei che volevo vedere. E a quel punto c'è stata un'altra grazia. Anche se credo che ciascuno abbia la grazia del proprio chiedere. Tutto dipende da quello che si chiede. Probabilmente lei ha sentito la cosa che chiedeva dentro di me. E col suo sorriso, con la sua ironia, con la sua sfida. C'era sempre una sfida in fondo allo sguardo di Mer. Aveva sempre l'aria di sfidarti. Vediamo un po'. Ne sei capace? Provaci. Davvero un challenge. Mi piace molto il termine inglese per sfida. Sì, c'era una sfida in fondo al suo sguardo. Grazie. Grazie.